segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e vediamo insieme allora ascolti con noi rado a lei sì abbiamo la lombardia come prima proiezione e copertura del campione 9 per cento abbiamo attilio fontana del centro destra al 52 3 piero francesco maio rino centro sinistra 34 7 letizia moratti azione italia viva 10,6 poi c'è ancora mara ghidozzi unione popolare 2,4 quindi risultati che per il momento confermano le previsioni grazie grazie vale la pena le abbiamo rubato 30 secondi